Ci concentriamo sull'export e quindi perché si guarda con interesse al Giappone? Beh, perché oggi la propensione di tutte le imprese, anche quelle del vino, è quello di guardare fuori dal nostro paese dove c'è attenzione per i prodotti italiani, per il cibo italiano e per la qualità. Noi rappresentiamo tutto questo, quindi è corretto aiutare, sostenere le imprese che producono vino in tutti i luoghi. Certamente in Giappone è una realtà interessante, così come attraverso i vini itali lo faremo con tante altre realtà. Questa è una tappa di quell'attività che si fa in giro per il mondo di promozione dei nostri prodotti e in questo caso con un sommelier qualificato del paese che potrà valorizzare per i 50 anni, in modo particolare i due vini che è il Rosso Piceno e il Verdicchio che lo festeggiano proprio quest'anno, attraverso queste ammiraglie poi lanciare il valore del vino marchigiano, del vino italiano già conosciuto. Quindi ha lo scopo di rafforzare sempre di più l'export in quella direzione. Due compleanni importanti, si apre insomma all'insegna della festa questo Vini Italy 2018 per le marche. Sì, due compleanni importanti, il Verdicchio dei Castelli di Iesi e il Rosso Piceno Superiore, quindi due vini straordinari che compiono 50 anni. Poi c'è un terzo anniversario che è quello del primo anno dell'olio IGP delle Marche e quindi è importante anche questo perché all'interno di Vini Italy ci sarà anche uno spazio dedicato al food e in particolare all'olio dove saranno presenti le nostre aziende. Quanto pesa l'economia del vino nel comparto agroalimentare delle Marche? Pesa molto, 138 milioni di euro e 48 milioni di export, quindi pesa molto, è un settore sicuramente trainante del food.